Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma della legge regionale per la tutela della lingua piemontese. La consulta sostiene infatti che il piemontese non si possa considerare una lingua ma un semplice dialetto. A detta dei politici locali tra cui spicca Aldo Rischigna, capogruppo regionale del PD, questa decisione evidenzierebbe un paradosso che vede il centrodestra in una duplice veste, autonomista su base locale e centralista a Roma. La legge in questione infatti venne approvata nell'aprile del 2009 con maggioranza di centrosinistra e opposizione di centrodestra. A definirsi quantomeno stupito c'è anche il neoeletto assessore regionale alla cultura Michele Coppola che sottolinea l'impegno profuso da sempre nella tutela della lingua piemontese come continua a definirla, promettendo battaglia affinché un simile patrimonio culturale e popolare abbia il giusto riconoscimento. A fargli sentire il proprio supporto anche il neopresidente della regione, Roberto Cota, che ha dichiarato. Non ci fermeremo, non possiamo fare altro che ripresentare una proposta di legge che tenga conto dei rilievi della Corte Costituzionale, ma che vada fortemente a tutelare il piemontese, che noi consideriamo a tutti gli effetti una lingua.